Topo Gigio. Storie e curiosità di un pupazzo senza tempo. Topo Gigio può essere considerato il primo pupazzo animato e parlante della televisione, creato nel 1959 da Maria Perego e Federico Caldura con la collaborazione del regista Guido Stagnaro. Tante sono le voci che si sono avvicendate per doppiarlo, sebbene la voce storica fosse quella di Peppino Mazzullo, dal 1961 al 2006. Creato per la trasmissione televisiva serata di gala, in breve tempo riscosse un notevole successo, in particolare durante gli anni 60 e 70, tanto da apparire in moltissime trasmissioni sia italiane come Canzonissima e Lo Zecchino d'Oro che straniere, come l'Ed Sullivan Show negli Stati Uniti. E, stato protagonista di film di animazione, serie televisive a cartoni animati, fumetti, libri e campagne promozionali. Ripercorriamo la sua storia e alcuni aneddoti. La nascita Topo Gigio ha esordito nel 1959, nella trasmissione serata di gala, con la voce di Domenico Modugno. Sebbene la creazione si debba a Maria Perego e a suo marito Federico Caldura, fu Guido Stagnaro a dare loro le indicazioni tramite disegni e precise indicazioni. Ispirandosi però a Topolino, il corpo del pupazzo fu realizzato in molto prene. Nel 1960 è protagonista del programma per bambini storie di Topo Gigio, trasmesso ogni mercoledì pomeriggio per mezz'ora. Nel 1961 fa il suo esordio al doppiaggio Peppino Mazzullo, che, come detto, resterà la sua voce ufficiale per più di 40 anni, incidendone anche i dischi. Quell'anno Topo Gigio fu il primo pupazzo animato ad apparire nel carosello, come testimonial di una marca di biscotti. E divenne poi protagonista del film Le avventure di Topo Gigio, diretto da Federico Caldura con sceneggiatura di Maria Perego. Esordì anche come protagonista di una serie a fumetti disegnata da Dino Battaglia su sceneggiatura di Maria Perego e pubblicata sul Corriere dei Piccoli dal 1961 al 1963, e di una serie di fotoromanzi scritti da Alberto Ongaro e pubblicati sempre sul Corriere dei Piccoli nel 1961. Negli anni Sessanta venne pubblicata una serie di libri con testo di Guido Stagnaro e illustrazioni di Maria Perego. Negli anni seguenti il suo successo diventa internazionale e viene invitato a partecipare al celebre Ed Sullivan Show, del quale diventerà, fra il 1962 e il 1969, uno degli ospiti più assidui e più amati, per un totale di 50 puntate. Nel 1967 è protagonista di un film giapponese di animazione diretto da Connie Chikawa, presentato alla ventottesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia ma mai uscito in Italia. Nel 1974 presenta Canzonissima con Raffaella Carrà. In questo periodo con la sua voce vengono incisi anche dei 45 giri. Negli anni successivi partecipa a varie trasmissioni della RAI, in particolare utilizzato come spalla fissa di Cino Tortorella nella manifestazione musicale Zecchino d'Oro e di Memo Remigi in l'inquilino del piano di sotto. Nel 1988 la Nippon Animation ha realizzato una serie animata per la televisione di 34 episodi intitolata Bentornato Topo Gigio, trasmessa in Italia nel 1992, in cui Topo Gigio viene rappresentato come il primo topo astronauta a viaggiare nella Via Lattea. Essa sarà poi trasmessa in Italia da Italia 1 e in Spagna da Telecinco. La versione italiana della sigla è cantata da Cristina D'Avena. Negli anni 90 esce un giornalino a fumetti intitolato Topo Gigio, con numerose storie scritte da Sergio Crivellaro e disegnate, tra gli altri, da Luciano Gatto. Resta ancora in TV, soprattutto nella banda dello Zecchino. Nel nuovo millennio Con l'arrivo del nuovo millennio, passa a Mediaset dove però era già stato sporadicamente negli anni 80. Tra le novità, il fatto che la voce dello storico doppiatore Mazzullo fu sostituita. Partecipa ancora a programmi Rai, soprattutto la banda dello Zecchino, mentre nell'autunno 2009 viene utilizzato come testimonial per la campagna del governo italiano di prevenzione contro l'influenza lanciata su televisioni, giornali, radio e settimanali. Nell'anno 2010 la sua nuova voce ufficiale è quella dell'attore Leo Valli. Sette anni dopo, ritorna allo Zecchino d'Oro, dopo 11 di assenza, al fianco di Carlo Conti per festeggiare le 60 edizioni. Tra le ultime apparizioni ricordiamo il programma Crezzi lei sciò sulla tv del Fatto Quotidiano e compare anche nel programma Una pezza di Lundini. Così come nel programma Drusilla e l'Almanacco del giorno dopo. Alcune curiosità Nel 1997 destò polemiche e scalpore una scenetta che ritraeva Topo Gigio completamente nudo mentre faceva la doccia. Fu quella comunque l'unica occasione. Come detto, il suo personaggio arrivò in tantissimi paesi all'estero. In Uruguay, la squadra di calcio dell'uracan Buceo di Montevideo, che prima dello scioglimento militava in seconda divisione del campionato di calcio del paese sudamericano, aveva adottato Topo Gigio come propria mascotte. E a te piace Topo Gigio? Che ricordi hai di lui? Lascia un commento, un like e iscriviti al canale. Grazie. 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 Grazie.